Hanno preso il via da alcuni giorni lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei valloni ricadenti nel territorio del comune di Agropoli. Si tratta di operazioni che dovranno essere messe in campo dal genio civile, ma come accade ormai da anni, è il comune da assumersi tale onere. In particolare, le ditte incaricate stanno eseguendo lavori di pulizia di valloni, corsi d'acqua, siti a Cannetiello, presso Campopolito, il fiume Solofrone, presso il Parco Sogno e presso l'impianto sportivo Guariglia, quello in località Moio, località Frascinelle, via Togliatti, via De Curtis. Si proseguirà con i valloni di località Fuonti, via Minerva, via Difese ed altri. Gli interventi consistono nella riprofilatura del fondo dell'alveo, accantonamento del materiale lapideo sulle sponde, taglio selettivo della vegetazione ripariale e nelle aree golenali, emozione di tronchi e quanto altro presente in alveo. Trasporto al rifiuto. Siamo al lavoro, afferma il sindaco Adamo Coppola, come di consueto in questo periodo, per la pulizia e la messa in sicurezza dei valloni e corsi d'acqua, al fine di evitare che andando incontro all'inverno e quindi alle piogge, possano verificarsi esondazioni.